KIT! È l'ultima poesia che ho scritto. È disgustosa. Scusa, Kassly! Non mi piace. Cosa? Che vuol dire? Non mi viene più a trovare. Kassly, ehi, ehi! Qualcun altro sta prendendo il controllo. Cosa? Gli uomini dentro la mia mente. Sono arrabbiati. Ascoltami. Ehi, stami a sentire. Andrà tutto bene. Ci moriremo qui. Sierra. Sierra! Mia. Ehi, stai. Grazie.